Allora eccomi qui, eccomi qui, mi rassetto un attimo, sono Roberto Figazzolo, spero di essere in diretta domenica, domenica sera, domenica di Santa Lucia, domenica 13 dicembre del 2020, 2020. Allora l'idea è quella di parlarvi cinema, di consigliarvi un paio di film che mi è capitato di vedere ultimamente e siccome davvero, come dire, il tema è piuttosto scottante, vorrei partire subito in maniera molto evidente, in maniera molto, come dire, subito sul pezzo. Non prima però di inaugurare una rubrica, poi se vi farà piacere magari gli diamo seguito, che potremmo intitolare le ultime parole famose. In che senso? Ma nel senso che in effetti capita, ciao Paola, ciao Birdman Magazine, nel quale, come dire, sicuramente posso intravedere il nome di Valerio, Valerio Picca, col quale stiamo cercando appunto di rendere questi appuntamenti, ve l'ho già accennato l'altra volta, se possibile è ancora più interessanti, voi direte, come è possibile, già, se così sei interessantissimo, scherzi a parte, ci piacerebbe, ci piacerebbe renderli anche più ficcanti così, magari mettendoci qualcosa tipo trailer oppure locandine, ecco, con Valerio di Birdman Magazine stiamo proprio cercando di fare questo, quindi incrociamo le dita, un in bocca al lupo per tutti, chissà che prima di Natale non ci riusciremo, quindi con una regia, tutto quanto. Allora, dicevo, una luprica potremmo inaugurarla, le ultime parole famose, cioè ripensiamoci, e in effetti quando mi capita di raccontare che vado ai festival moltissimi mi dicono, ah caspita, chissà che bello, quanti attori, no, vedrai da vicino, conoscerai, la cosa mi ha sempre lasciato un po' perplesso, non sono, lo sapete, un grandissimo amante di, così, di VIP e di fama, ci mancherebbe, anzi, spesso io deludo le persone che mi dicono questa cosa perché poi gli dicono, no, ma veramente io vado ai festival per vedere i film, come per vedere i film? Vai ai festival del cinema e stai sempre richiuso in sala? Sì, magari esco dalla sala giusto per andare a seguire una conferenza stampa, ma anche qui mi interessa la conferenza stampa, non tanto il photocall, no, ci sono gli attori che si mettono in posa, così fanno le varie moine che potete immaginare, perché alla fine gli attori sono esseri umani e spesso magari non della migliore specie. Mi ha fatto molto sorridere una dichiarazione proprio della scorsa settimana di Elliot Page, voi direte, ma come, non si chiamava Ellen? Sì, si chiamava Ellen, però dopo aver dichiarato la sua omosessualità qualche anno fa, già ci mancherebbe, siamo contenti che l'abbia fatto, visto che sentiva questo bisogno, lui e la sua, lei, lei al tempo era lei e la sua compagna, hanno dichiarato appunto, lui dichiarava la propria omosessualità, adesso invece ultimamente la settimana scorsa ha dichiarato il proprio essere transgender, naturalmente anche qui ci mancherebbe, anzi ha fatto una bellissima dichiarazione, devo dire davvero commovente, dicendo che finalmente ha avuto l'occasione di farlo perché è stata incoraggiata dalla comunità transgender, o transgender, dite un po' come vi pare, e che l'hanno incoraggiato a farlo e anche perché dice finalmente mi amo come persona, non ho mai, non ho più avuto paura, non ho più paura di quello che sono, di quello che sento di essere e questa appunto ci mancherebbe, cioè è una cosa molto bella, tra l'altro davvero commovente il modo in cui lui sceglie di dirlo, magari un po' meno apprezzabile quello che lui poi ha detto in seguito, dicendo che quando lui, che vuol chiamare Elliot a questo punto, vuol essere chiamato Elliot, Elliot Page, interpretava il ruolo di Juno in questo film in cui questa ragazza appunto viene, come dire, che tutto il mondo, visto che lei rimane incinta molto giovane, vorrebbe convincere ad abortire, che invece lei in maniera molto, come dire, dura dice no, io voglio assolutamente portare a termine la mia gravidanza e poi voglio che il mio bambino sia adottato poi da una famiglia che può concedere appunto a questo ragazzino le migliori opportunità per crescere. Ecco, devo dire la verità che lì mi fa un'impressione un po' peggiore quando appunto nel film, ovviamente seguendo la sceneggiatura e parlando con il padre di questa nuova famiglia, quando il padre suggerisce il nome di Madison per questo figlio che nascerà, lei dice Madison, ma scusa se gli dai il nome Madison lo facciamo già crescere come un piccolo gay. Ecco, faceva parte della sceneggiatura, era parte del personaggio, lei dice ha pronunciato questa frase e non si è accorta della gravità di questa frase, ma faceva l'attrice, cioè è chiaro che recitava le parti che gli diceva di recitare, ma lei a questo punto dice no, adesso sono cresciuta, adesso mi rifiuterei di dire una frase del genere. Ecco, questo vuol dire ricadere troppo nel politicamente corretto, ecco, è davvero abbastanza insopportabile. Ci va benissimo che lui, lei, lui dica che è un transgender non binario, quindi non tutto maschio, non tutto femmina. È una cosa stupenda che Elliot abbia raggiunto questa consapevolezza e ce l'ho dita, però perché poi tornare indietro a quando era una lei a tutto tondo e lamentarsi per le battute che tra l'altro poi le hanno dato anche alle celebrità, meritatissima perché tra l'altro che sia un lui o che suona lei rimane una persona assolutamente affascinante, soprattutto per la sua capacità anche recitativa, è davvero bravissima nei ruoli che ha interpretato. Fino adesso vedremo nei ruoli che interpreterà d'ora in poi, tra l'altro ancora se vogliamo più interessanti proprio per questa ulteriore consapevolezza che Elliot ha espresso, affidandolo naturalmente ai social, ci mancherebbe. Due sono i film, parlando di cose veramente serie, di cui mi piacerebbe parlare, sono due film politicamente molto importanti. Uno è un film hollywoodiano, classicissimo, di un autore come Peter Berg, il titolo è Boston caccia l'uomo, soltanto in Italia. Il titolo originale secondo me è molto più ficcante, come al solito sono i titoli originali, è Patriots Day, quindi il giorno dei patrioti. Allora, diciamo subito una cosa, Peter Berg è il volto umano di Michael Bay, cioè voi conoscete Michael Bay, Pearl Harbor, film molto muscolari, un punto di vista assolutamente schierato. Peter Berg, essendo anche allievo in qualche maniera di Malcolm Bay, è stato identificato, posso sapere che Hollywood è molto polarizzata, quasi tutta Hollywood si pone a sinistra e poi ci sono alcuni autori, cappeggiati di solito, Clint Eastwood, che invece sono più repubblicani. Ecco, non è un caso quindi che con l'elezione poi di Trump ci sia stata questa levata di scudi da parte di Hollywood e poi Trump a sua volta abbia, per quanto è presidente degli Stati Uniti, quindi qualche potere ce l'avrà, però Hollywood è potentissimo da questo punto di vista, quindi ha combattuto per quello che poteva questo odio riflesso. Ecco, Peter Berg fa questo film, Boston caccia l'uomo, su un fatto assolutamente tragico che è avvenuto il 15 di aprile del 2013, quando a Boston, che ospita la più antica maratona degli Stati Uniti, ci fu, forse lo ricorderete, quell'attentato orribile, terribile, per il quale ci furono tre morti e più di 264 feriti, anche molto gravi. Ecco, che film è questo Boston caccia l'uomo che voi trovate appunto sulla piattaforma al solito su Right Play? Allora, da un primo punto di vista potrebbe sembrare un film molto schierato, ma parla di qualcosa, è difficile mettersi dall'altra parte, è difficile abbracciare la causa dei due fratelli musulmani radicalizzati che fanno esplodere queste due bombe costruite in casa con queste due pentole a pressione per loro stessa missione, a missione di uno dei due. Uno dei due, non so se ricordate, viene ucciso negli scontri che poi seguono questo attentato, perché è stato uno dei casi in cui effettivamente la polizia è riuscita, l'FBI è riuscita in pochissimo tempo, in tre giorni, cioè il quarto giorno, il corso successivo, il 19 di marzo, si erano già trovati colpevoli, non solo trovati, ma anche inseguiti, ma anche appunto affrontati e uno dei due effettivamente muore a Watertown in questo scambio di fuoco con la polizia che vuole fermarli, perché loro hanno rubato il SUV di un ragazzo cinese e che appunto è riuscito poi a scappare e a informare la polizia che appunto l'avevano rapito, gli avevano rubato la macchina e che erano quelli che avevano compiuto l'attentato e invece l'altro viene catturato la mattina dopo ancora, perché appunto ferito, gravemente ferito anche lui durante questa sparatoria, si era nascosto dentro il, come dire, sotto il telo che copriva una varca in questo cortile di questa villetta di Watertown, che è questa cittadina proprio alle porte di Boston. Allora, diciamolo subito, queste cose che voi magari dicevano, ma come c'è spoilerato il film? No ragazzi, qua come se vi avessi detto 9-11, che le torri gemelle crollano, cioè quella è una cosa che si sa, uno dei classici film che non si possono spoilerare, perché queste qui sono le cose che sono avvenute. Semmai la cosa interessante, secondo me, ma magari anche secondo voi me lo direte, è proprio quello di capire come sono avvenute queste cose e quale criterio hanno seguito, come si sono succedute nel tempo. Ecco, e questa secondo me è anche la cosa più interessante, perché a differenza di come avrebbe fatto magari Bay, no? Peter Berg, per esempio, inizia la sua narrazione con un montaggio parallelo, classicissimo proprio, cioè forse il più classico dei montaggi, lo ricordate, il montaggio alternato, no? Quello di John Ford, ma quello ancora prima di Griffith, no? Cowboy indiani, cowboy indiani, cowboy indiani e poi si incontrano. Appena meno classico, però classicissimo anche questo è il montaggio parallelo, cioè la colazione della famiglia ricca, la colazione della famiglia media, la colazione della famiglia povera, tutte quante mostrate una dopo l'altra, perché al cinema si fa così, però capiamo che sono tutti momenti simili, semplicemente narrati in ambiti differenti. Ecco, lui, Berg, fa questa cosa bella proprio di mettere praticamente subito davanti ai nostri occhi, in modo che ci affezioniamo anche a loro, tutti i vari protagonisti della storia, quelli che poi saranno le vittime e quelli che saranno gli artefici, quindi se volete proprio terroristi, insomma, quelli che compiranno l'attentato. Anche qui però non c'è subito un tentativo, e io lo dico per fortuna, di demonizzare nessuno, né di esaltare troppo altre persone, cioè si mostrano assolutamente queste storie, lo si fa in maniera tranquilla, rilassata, non c'è un tentativo proprio di stabilire già chi è il vilain e chi è quello buono, assolutamente no. Molto, molto interessante è il fatto che questi due fratelli, i fratelli Tsarnaev nella storia, sono due fratelli, la storia, la cronaca diceva Ceceni, in realtà la madre era Avara e il padre Ceceno, e tutti e due in realtà erano nati appunto in Russia, alla fine, no, e erano diventati poi, beh, soprattutto erano stati accolti in America come rifugiati, quindi per costigli al regime, quindi rifugiati politici. Ma la cosa interessante è che uno dei due, il fratello maggiore, aveva iniziato anche una carriera, prima in università, poi aveva cercato di fare il pugile, non era stato, voleva fare, voleva diventare americano, voleva avere l'accedenza americana perché voleva partecipare alle Olimpiadi nella squadra di pugilato degli Stati Uniti d'America, cosa che non riesce a fare, molto interessante anche questa cosa qua, cioè, e forse ci fa intuire anche il film, perché ci mostra proprio anche degli spezzoni proprio autentici, anche questa cosa qua, cioè mostrare all'interno di questo film, tipicamente hollywoodiano, delle scene vere dei found footage film, cioè delle scene realmente in video filmate sui luoghi dove è avvenuto l'attentato, quindi la strage, ma anche, molto interessante, delle scene per esempio che venivano dal computer di questi due ragazzi, di questi due fratelli. Dicevo, il fratello maggiore, che è quello che si radicalizza di più, sta a sei mesi anche appunto in Russia, nella Repubblica del Dagestan e lì probabilmente torna che è già proprio radicalizzato. L'altro fratello, se vogliamo più, come dire, è che, proprio perché è un'età minore, no, così ha sette anni di differenza hanno loro, è più propenso a diventare davvero americano. Per esempio, frequenta quest'università a Boston dove si prepara a prendere una laurea in infermieristica e, sebbene molto giovane, è piuttosto popolare tra i suoi compagni, multietnici assolutamente anche loro. Viene descritto come un ragazzo che si fa qualche canna, che appunto partecipa anche ai laboratori, partecipa alle attività, come dire, non prettamente scolastiche, ha dei buoni amici, vuol dire, è assolutamente integrato da tanti punti di vista e, infatti, da notare poi come l'FBI accusi alcuni suoi compagni di aver coperto questa, questa sua radicalizzazione, no, questo suo diventare musulmano radicale. Ma le indagini vanno avanti e si scopre che di fatto lui non aveva mai palesato questa sua radicalizzazione e quindi è abbastanza normale che, tra l'altro, anche chi gli era più vicino nel campus non se ne fosse accorto. Quando, diciamo, la prima mezz'ora, quindi, è proprio di contestualizzazione di queste storie che si avviano e che proseguono in maniera parallela e qui cresce la tensione, no, perché noi sappiamo che stiamo vedendo un film su questo evento tragico e quindi noi, a differenza dei, come dire, dei personaggi all'interno del film. Ecco, un'altra cosa interessante, sono tutti personaggi realmente esistiti, tutti, ovviamente dagli attentatori, poi ci sono proprio anche le foto in originale, è interessantissimo vedere come Berg ha riuscito anche a trovare delle facce, oltre a interpretazioni incredibili, come al solito, di attori che non hai mai visto, però eccezionali che riescono assolutamente a interpretare il ruolo in maniera credibilissima. Alla fine nei titoli di Coda ci sono le facce vere delle persone e vedi quanto sono simili a quelle che lui ha scelto per fare la parte, tranne la figura del protagonista, questo poliziotto duro che viene mandato a, lì, viene mandato lì dentro a, come dire, all'arrivo, proprio dove poi ci sarà l'esplosione delle due bombe, come punizione, sanzione disciplinare, uno che non abbassa la testa, è interpretato proprio da Mark Wahlberg, che tra l'altro coproduce anche il film, quindi ci crede davvero tanto, ecco, c'è anche Kevin Bacon o John Goodman Junior tra gli attori, le star che popolano il film. Che cosa si può dire? Cioè, il film è credibilissimo, è credibilissimo. Quando c'è l'esplosione, in effetti, poi l'esplosione va avanti, nel senso che, in effetti, è narrata, l'esplosione viene a distanza di pochi secondi, 12 secondi, l'una dall'altra, pochissimo, no? Però la narrazione dell'esplosione dura per 25 minuti e si può giovare addirittura dell'utilizzo proprio di materiale filmato anche sia durante l'esplosione che subito dopo l'esplosione, anche da questo punto di vista interessantissima, la forza del cinema, anche così di genere hollywoodiano, eh? Questo desiderio e possibilità di evocare al tempo stesso, ricalcare la verità, farla rivivere quasi un'altra volta. Il film è potentissimo, puoi pensarla come vuoi quando tu guardi questo film per come è raccontato, per come è girato, è davvero, ti viene in mente la frase condivisa da Hitler, Stalin e Mussolini, la cinematografia, il cinema è l'arma più forte. È l'arma più forte perché ti convince, ti convince di quello che vuole lei, assolutamente. Cioè tu guardi questo film e condividi assolutamente gli sguardi della... Ciao Teresa, stavolta sei riuscita a seguirmi in diretta, sono ancora più contento. Sì, come dire, sì, 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 tu guardi il film e aderisci, aderisci assolutamente all'assunto. C'è una cosa però che, come dire, a un certo punto ti scuote e cioè come anche all'interno del film, a un certo punto si fa un nome, oltre a quello ovviamente dei due fratelli, tra l'altro c'è una novità anche da questo punto di vista, vabbè, uno dei due fratelli ha detto Tamerlav e muore. Zoccar sopravvive, è attualmente rinchiuso in carcere, ci paccherebbe in America, era stato condannato da una giuria popolare di 12 rappresentanti, era stato condannato alla... era nel braccio della morte, non è stato condannato, nonostante quando ha compiuto questa cosa avesse veramente 18 anni. Il titolo è The Patriot's Day, Boston caccia all'uomo, Boston caccia all'uomo, di Peter Berg su Rai Play. Cosa vi posso dire? Quando tu appunto, vi dicevo Zoccar è in carcere, sta aspettando la condanna, ma in realtà proprio nel luglio di quest'anno, del 2020, quindi lui è già in carcere da sette anni, è stata commutata la pena, non sarà più ucciso, è stata commutata in ergastolo, perché si è dimostrato come alcuni dei giudici popolari, che facevano parte proprio della giuria popolare che doveva condannarlo, era in realtà, è stato approvato, fortemente prevenuta nei confronti dell'imputato e quindi è stata cambiata, fortunatamente, non ci sarà più l'iniezione letale, ma tra l'altro io penso che la condanna sia ovviamente ancora più dura, cioè il fatto di rimanere in carcere tutta la vita, piuttosto che andarsene e tutto sommato finire lì la virgolette, la punizione. Dicevo, si fa un nome, si fa un nome, questo nome è Anwar al-Avlaki, Anwar al-Avlaki. Chi è Anwar al-Avlaki? Beh, è il nome che fa a un certo punto anche la polizia dicendo, ma sì, i due fratelli sono radicalizzati seguendo su internet le prediche di Anwar al-Avlaki, che a rispetto del nome è un americano. È un americano, certo è nato in Yemen, però americano perché il papà si è trasferito in America quando lui aveva due anni, così, e poi vabbè sono andati avanti e indietro anche con lo Yemen, sapete territorio di guerra come si dice a bassa intensità, vuol dire che ne muoiono tantissimi, ma noi non lo sappiamo, questa è la differenza con le guerre ad alta intensità. E che succede? Praticamente questo Anwar al-Avlaki è in effetti uno degli imam che si sono radicalizzati e che essendo stato effettivamente, avendo studiato anche a ingegneria ed essendo diventato ingegnere in America, poi approfondisce il suo rapporto con la regione, diventa imam, diventa imam radicale e evidentemente anche la sua forza nel diffondere il radicalismo lo ha fatto, come dire, identificare proprio come uno degli ispiratori di Al-Qaeda. Che cosa è successo? È successo che, anche qui stiamo parlando di storia vera, questo Avlaki non ha soltanto influenzato i due fratelli ceceni, ma ha influenzato, per esempio, si dice addirittura agli autori della strage delle torri gemelle e tantissimi altri, tantissimi altri. Per esempio i due fratelli non è stato nemmeno provato che quello che è sopravvissuto, cioè Zockar, avesse mai visto di fatto davvero le prediche di Avlaki. È stato il fratello che le aveva viste, le seguiva e che era visto un po' come una guida da parte del fratello minore, il fratello maggiore che l'ha poi convinto a fargli la spalla per questo terribile gesto dell'attentato terroristico alla maratona di Boston. Effettivamente, approfondendo la cosa, si vede che proprio su Anwar alla Avlaki è stato girato un film. È stato girato un film perché a un certo punto lui appunto già nel 2011 è stato oggetto, è stata anzi la prima vittima americana, perché lui a tutti gli effetti era cittadino americano. Era in Yemen e Obama ha, come dire, ordinato la sua uccisione attraverso un drone. Cioè l'ha fatto saltare in aria. Lui era in macchina con il direttore di un sito che pubblicava una rivista, anche questa radicale, di Islam radicale, che è stata considerata proprio, come dire, molto pericolosa evidentemente, perché continuava ad arruolare persone per la causa contro gli Stati Uniti d'America, eccetera, eccetera. E questo è quello che è avvenuto. Cioè un drone ha ucciso Anwar alla Avlaki sul territorio yemenita, che era in auto con quest'altra persona, con quest'altro, appunto, editore, e sono morti. Ma a distanza di pochi giorni un altro drone uccide il figlio sedicenne di Anwar alla Avlaki. Ora, questo regista, che si chiama Rick Rowley, prende come spunto un libro scritto da un giornalista del giornale quotidiano americano Venetian, che si chiama Jeremy Scalhill, e cosa fa? Va a cercare delle storie, va a cercare come mai proprio Anwar alla Avlaki, cittadino americano, seppure imam, seppure accusati, tutte queste cose, senza subire processi, è stato ucciso e da chi? Perché è facile dire è stato un drone, sì, ma qualcuno la guidava quel drone, c'era qualcuno che evidentemente, poi qualcun altro avrà capito che su quell'auto c'era davvero Avlaki e poi che di fianco c'era qualcuno che comunque, come dire, di cui l'FBI o comunque gli americani non avrebbero sentito la mancanza, come questo editore di questa rivista che ispirava comunque al Qaeda. Ciao Lorenzo, ciao Lorenzo. Ecco, Lorenzo mi ha mandato ovviamente un video bellissimo, scusate, un video, una intervista radiofonica, un suo intervento radiofonico e mi ha fatto commuovere dicendo che io lo ispiro per fare queste cose. Lorenzo, io ti faccio fare queste cose qua, cioè, voglio dire, sono contentissimo, ho un motivo per vivere, per non suicidarmi questa sera come avevo già preordinato di fare, insomma. Grazie, grazie assolutamente. Lorenzo Midali, seguite le sue dirette che non hanno assolutamente nulla delle mie, anzi, che fa per la radio, questa radio di Sant'Angelo, ma comunque Lorenzo Midali, seguitelo, assolutamente, bravissimo. Cosa volevo dire? Che, allora, Rick Rowley gira un film, Dirty Wars, servendosi non solo del libro scritto da Jeremy Scalhill, questo giornalista di Venetion, che segue proprio, come dire, va a cercarsi la storia, come mai l'uccisione di Avlaki, seppur sul territorio di Yemenita, chi l'ha decisa, ma lo fa con il privilegio di avere Jeremy Scalhill come autore della sceneggiatura di questo documentario e addirittura come interprete. Cioè, noi abbiamo davanti questo Jeremy Scalhill, questo giovane uomo, che si fa filmare, mentre effettivamente, per esempio, intervista, ovviamente era impossibile intervistare Anwar perché era morto, ma intervista il papà di Anwar Alavlaki e il nonno, che è anche il nonno di suo figlio. Ed è interessantissimo, secondo me, la tesi che salta fuori, perché la tesi che salta fuori è molto, come dire, semplice. Cioè, tutte le volte che una forza che tra l'altro, alla quale Scalhill dà un nome, si chiama JSOC, J, G, I lunga, S, O, C, di JSOC, tutte le volte che questa forza, che non sono i Marines, non è l'aviazione, non è, che ne so io, non è un corpo speciale di quelli di cui si parla tanto, ma in realtà è meglio così, perché è effettivamente un corpo che risponde direttamente e solo al Presidente degli Stati Uniti d'America e che fa tutte azioni anche sotto copertura e che è effettivamente fatto da personale militare molto, molto addestrato e che, come dire, del quale non si deve parlare. Dov'è che Scalhill riesce effettivamente a scalfire questo muro, riesce ad entrare nella storia? In una notte in cui sa che c'è stato un intervento in Afghanistan, in una remota zona rurale, stavano celebrando una festa, chissà come mai qualche, diciamo, soffiata, ma ovviamente di qualcuno che non, come dire, o che non sapeva o che peggio probabilmente voleva proprio scatenare questo tipo di reazione in consulta, vengono avvisati, appunto, gli Stati Uniti d'America e i servizi antiterrorismo che in quella casa c'è una riunione segreta di alcuni membri importanti e chiaramente loro arrivano, sfondano, uccidono. Il problema è che entrando lì dentro loro trovano una festa di matrimonio e quindi quelli che uccidono sono uomini, donne, bambini che non c'entrano nulla. Scalhill fa una cosa molto forte, secondo me. Lui riesce ad arrivare in quel posto e riesce ad intervistare anche, per esempio, un uomo, un giovane uomo, che è ancora sconvolto per quello che è accaduto, perché la cosa non è accaduta tanto tempo prima, e lui dice davanti alle telecamere che non si è mai occupato di politica, ma il fatto che siano entrati durante la sua festa di matrimonio e gli abbiano ucciso la sorella, il padre e la sposa, dice questa cosa, improvvisamente mi hanno fermato i miei parenti perché io mi sarei messo immediatamente una cintura esplosiva e sarei andato a farmi esplodere da qualche parte. Ecco, questa è la tesi di Scalhill e secondo me questi due fin sono da vedere insieme se ci pensate, perché da una parte, anzi vi do proprio l'ordine per vederli, prima assolutamente vedersi Caccia all'uomo, appunto Patriot Day, quindi il film di Peter Berg, e poi subito dopo vedersi Dirty Wars di Rick Rowley, che tra l'altro trovate, anche questo in maniera assolutamente legale e così, su time, il film è bellissimo perché uno è un film di fiction, moltissimi mezzi, l'altro è un film documentario, tutte e due sono storie vere, tutte e due hanno la loro tesi, se volete noi capiamo anche tante cose che in effetti è giusto capire anche dal cinema medio, cioè perché rimaniamo così colpiti anche dal film Patriot Day? Non solo perché è ben scritto, è ben girato, è ben interpretato, ma perché alla fine abbiamo bisogno, quando guardiamo un film secondo me, di prendere una parte, cioè ci piace parteggiare per, ci piace dire noi stiamo da quella parte lì e ci piace ancora di più se non compaiono dei cartelli che ci dicono tu devi far parte di quel gruppo lì, no, al contrario, cioè ti sembra, grazie naturalmente alla bontà di chi gira il film, che il fatto di aderire a quella causa sia assolutamente spontaneo, cioè tu lo fai perché è così, dopo aver visto Patriot Day, Caccia l'Uomo, Boston Caccia l'Uomo, voi guardatevi Dirty Wars e sono due film appunto di durata simile, uno due ore, l'altro un'ora e mezza, così, sono due film che parlano su sommato dello stesso argomento, perché è vero che uno è del 13 e l'altro è del 17, ma alla fine, parliamoci chiaro, il secondo non fa altro che cercare le radici di quello che ha dato alla stura per girare il primo, quindi è molto interessante confrontarsi proprio con queste due cose, secondo me, al di là della cosa banale del, ah guarda mi sono fatto convincere da Hollywood, ma in realtà è proprio così, cioè se tu effettivamente agisci in un territorio dove tu praticamente ammazzi delle persone e naturalmente, che ne so, per la stampa mainstream americana erano vittime, come dire, danni collaterali, ok? Danni collaterali, col cavolo, perché chi non aveva mai pensato di prendere le armi e combattere qualcuno, quando gli fai una roba del genere, è chiaro che immediatamente comincia a pensare, ma non solo uno, dieci, cento, mille persone cominciano a pensare, ma che cosa vogliono queste, perché vengono qua e mi ammazzano i miei parenti, io non gli ho fatto niente, e soprattutto sono venuti a liberarmi, da chi, da cosa? Cioè l'unica cosa che è successa è che questi qua, sono di qua, mi hanno ammazzato mia moglie, mi hanno ammazzato mia sorella, hanno ammazzato mio padre, e tra l'altro hanno ammazzato queste persone in maniera del tutto gratuica, cioè era in atto una festa, ecco, anche lì Scali, fantastico, riesce a farci vedere le immagini, i video della festa, i video della danza, e poi però subito dopo ci mostra anche delle immagini che sono immagini delle, come dire, delle vittime. Qui c'è Lorenzo che non riesco a leggere una cosa così, dopo lo leggo, giuro, dopo lo leggo. Non so se mi sono spiegato. Tra l'altro è molto interessante, se poi volete approfondire, leggersi le critiche ai due film, per cui è chiaro che c'è il critico, come dire, magari un po' superficiale che immediatamente dice, vabbè, Patriots Day è un film di destra, girato da un cineasta di destra, cosa ti aspetti, giusto se tu che sei ingenuo, che ti fai prendere, mi piacerebbe vedere, come dire, guardare il film con quel tipo di critico se lui non si appassiona comunque mentre sta guardando. Invece l'altro è poi un film assolutamente, ci mancherebbe, più realistico, voluto, tratto da un libro e poi interpretato proprio dallo stesso autore di quel libro, cioè da colui che ha proprio fatto queste ricerche, quindi un giornalista, se vogliamo, d'assalto e anche di guerra, nel senso che fa delle cose incredibilmente interessanti. Sono stato lunghissimo, chiudo semplicemente dicendovi che sono due film che davvero è utile vedere, proprio al di là del, vabbè, divertimento, oppure passo tre ore, quattro ore, così, guardando queste cose qua. Sono film che ti dicono tanto su quello che è il cinema oggi, su quello che riesci a fare e, secondo me, davvero, è molto più raffinata la cosa. Cioè tu ti guardi questi film qua e capisci tanto sia sul genere, sulla fiction, sulla finzione, così, sia sul documentario e capisci tanto, beh, lì da questo punto di vista non perdetevi, per esempio, tra le tante scene che mi rimangono in mente, la primissima scena, proprio l'esordio del film Dirty Wars, quando c'è questa voce fuoricampo che noi sappiamo essere di scala, il tratto è film, ovviamente in lingua originale, quindi si sente la sua voce che è sottotitolo in italiano e quello che si vede è lui che avanza in questa notte di Kabul e questa notte dice una città di tre milioni di abitanti e però le vie, come vedete, in questa notte, sono le quattro notte, sono completamente anche buie, ha visto qualche posto di blocco magari e dice, d'altronde io faccio il giornalista e le storie le posso trovare solo se vado in giro per strada. Penso che sia una bellissima lezione anche per tanti, tanti, tanti altri giornalisti o gente che si definisce tale. Due grandi film, Patriots Day e Dirty Wars, guardateli assolutamente, sono riuscito a fare anche la victory. Buona settimana, guardate questi film, subito!